Direttore, qual è il tuo compito nel giornale di Riviera Oggi? Il giornale di Riviera Oggi, essendo un settimanale che esce ogni martedì e ogni settimana appunto, il mio compito è quello di, sin dal mercoledì mattina, riunire tutta la relazione, organizzare gli articoli da mettere nel giornale, che essendo un settimanale saranno tutti articoli di approfondimento di quando è accaduto nella settimana precedente. Ad ogni redattore affido un compito diverso, dalla politica alla cronaca allo sport e in questi redattori mediteranno i loro servizi che poi durante la settimana consegneranno a me, io li vedrò e poi darò il via all'uscita del giornale.